Torna la notte delle paure, questa è la ventitresima edizione dall'8 al 12 agosto a Leofara e non solo. Sì, torna è una bella parola perché l'altro anno è stata ferma per problemi proprio di terremoto, quindi vogliamo ritornare anche perché nonostante le difficoltà, questo ci vengo a dirlo, abbiamo vinto una grande battaglia, quindi siete numerosi a sostenerla perché abbiamo bisogno anche di sostegno da parte del pubblico ancora. E poi sì, quest'anno torna in modo ancora più poetico perché abbiamo scelto il mito, abbiamo scelto gli eroi, i miti greci riletti in chiave moderna, quindi in mezzo a questo percorso recuperato che c'è più di 2000 anni, è bellissimo, ci sarà una sinergia, la natura come sempre e i testi e questi ragazzi che hanno lavorato giorno e notte per fare lo spettacolo e sono stati meravigliosi. Quest'anno c'è stato anche un gruppo molto bello, più piccolo e più intimo, quindi portano cose ancora più profonde per tutti loro, con delle musiche meravigliose che ci tengo a dirlo con Oscar, che abbiamo usato strumenti da tutto il mondo verranno questi strumenti, quindi ci tengo a dire che quest'anno c'è proprio una sinergia tra musica, natura, parola e corpo che è veramente fantastica. Quindi la suggestione della Notte delle Paure è accompagnata da una colonna sonora particolare? È una colonna sonora che parte sicuramente dai tempi passati perché sono strumenti antichi utilizzati in Persia, in India, in Asia e sentirli rivibrare in questi posti porta dentro una suggestione particolare, profonda. Ritorniamo di nuovo a sentire quasi le vibrazioni della natura perché sono strumenti fatti proprio con il legno e il legno rivibra di nuovo e rientra in sintonia con quello che appunto dal cui è stato tagliato. Come quindi è strutturata questa Notte delle Paure? È strutturata così, è una passeggiata in cui ci saranno musica, ma ci saranno anche dei pezzi di musica rock che abbiamo messo per creare una modernità e i testi vengono da Borges, vengono da Cavafis, vengono da Duremat, da Cocteau ad esempio e quindi immaginate che loro hanno riletto in che modo è stato riletto, dove un minotauro che era un mostro di cui spaventarsi, da uccidere diventa alla fine qualcosa con cui familiarizzare, con cui fare amicizia e renderlo alleato. Andiamo a rileggere l'intelligenza emotiva, il nostro corpo, come qualcosa di buono, come una risorsa che sviluppa l'intuito, che sviluppa la convivenza, invece di andare troppo nella parte razionale. Quindi è un po' un viaggio verso la nostra parte istintiva, come qualcosa di buono, non qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi ma qualcosa da far vivere in un modo sano.